ciao a tutti oggi vi presento questo motivo realizzato ai ferri e traforato è un motivo che possono realizzare anche le principianti stando però attente ai gettati perché sul rovescio del lavoro è facile magari perderne qualcuno e di conseguenza si perde una maglia allora vi faccio vedere come si presenta sul davanti e come si presenta sul dietro volendo possiamo utilizzare anche il retro del lavoro come motivo perché è abbastanza carino i ferri di ritorno o ferri pari le maglie vengono lavorate tutte a rovescio quindi è abbastanza semplice allora il motivo è formato quindi è un multiplo di 6 maglie e si realizza in 12 ferri quindi andremo a montare sul ferro 6 6 6 6 6 più le 4 di vivagno cioè due per ogni lato che andranno a formare il bordino allora è un motivo che possiamo utilizzare per svariati progetti naturalmente lo consiglio per dei progetti puramente estivi o primaverili massimo autunnali invernali un po meno però nessuno ci vieta di utilizzarlo comunque possiamo realizzare appunto dei vestitini dei copricostume delle sciarpe delle stole delle magliette delle t-shirt eccetera andiamo adesso a vedere come si realizza ho montato sul ferro un totale di 46 maglie perché vado a lavorare 7 motivi quindi 6 per 7 più le 4 di vivagno cioè due per ogni lato che andranno a formare il bordino partiamo dal primo ferro e andiamo a vedere insieme come si lavora un solo motivo primo ferro di vivagno vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno un gettato una diminuzione semplice passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare lavoro la seconda maglia a diritto e a cavallo la prima sopra la seconda quattro diritti 1 2 3 4 andiamo a ripetere questo motivo secondo ferro di vivagno tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro terzo ferro vivagno un diritto un gettato una diminuzione semplice 3 diritti 1 2 3 ripetiamo questo motivo quarto ferro tutte le maglie a rovescio quinto ferro vivagno 2 diritti 1 e 2 un gettato una diminuzione semplice 2 diritti 1 e 2 ripetiamo questo motivo sesto ferro tutte le maglie a rovescio sesto ferro tutte le maglie a rovescio settimo ferro vivagno 3 diritti 1 2 3 un gettato una diminuzione semplice un diritto un diritto ripetiamo questo motivo ottavo ferro tutte le maglie a rovescio nono ferro vivagno 4 diritti 1 2 3 4 un gettato una diminuzione semplice ripetiamo questo motivo 10 ferro tutte le maglie a rovescio 11 ferro un dicesimo ferro vivagno un dicesimo ferro vivagno diminuzione semplice 4 diritti 1 2 3 4 un gettato andiamo a ripetere questo motivo dodicesimo e ultimo ferro tutte le maglie a rovescio allora come possiamo vedere il motivo è praticamente terminato non dobbiamo far altro adesso che andare a ripetere i ferri dal numero 1 al numero 12 il motivo il video sono terminati e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao